Si è tenuta a Marano presso l'Istituto Carlo Levi la presentazione del libro di Geo Nocchetti Gesù non aveva amici. Hanno partecipato all'incontro la professoressa Anna Maria Arfè, il professore Raffaele Felaco, presidente dell'Associazione Psicologi per la responsabilità sociale, il professore Vincenzo Sarracino, docente di scienze della formazione dell'Università sull'Orsola di Napoli, è il dottor Antonio Papa, organizzatore e promotore dell'evento e il dirigente scolastico dell'Istituto Maranese Francesco Porcelli. Una fiera di luoghi comuni, quella che Nocchetti nel suo irriverente pamflet passa al setaccio arrivando a svelarne la vera natura, un libro irriverente sin dal titolo. L'autore dissacra con realismo le categorie sociali di famiglia e amicizia, operando un radicale stravolgimento dei concetti e di significati a questi termini storicamente associati. Vittorio Sgarbi nella sua prefazione lo ha definito un pamflet dissagratorio, sofistico, razionale e amaramente disilluso.